pp a scuola una mattina pp calze lunghe giunse nel cortile della scuola sul suo cavallo scese spalancò la porta dell'aula e dentro salute a voi esclamò pp arriva in tempo per le moltiplicazioni tommy e annika i suoi amici porterono le mani per la contentezza benvenuta tra noi intanto dimmi il tuo nome disse la maestra mi chiamo pp e sono figlia del capitano calze lunghe bene rispose la maestra cominciavo dalla vita medica sembrava vero prima delle moltiplicazioni però vediamo come te la cavi e con le addizioni quanto a 75 pp meravigliata guardò la maestra rispose così a occhi e croce fa 67 ma non corresse la maestra hai sbagliato 7 più 5 fa 12 ma se lo sapeva perché me l'ha chiesto replico pp